buongiorno benvenuti al mio canale una delle applicazioni che finiscono per occupare più spazio nel nostro smartphone è sicuramente whatsapp perché nelle conversazioni nelle chat vengono ci vengono inviati o noi stessi inviamo video foto documenti magari documenti prendono poco spazio ma comunque poi queste chat si riempiono di di documenti di contenuti e quindi utilizzano molto spazio della memoria del cellulare come si fa a eliminare tutti questi file lasciando magari quelli che ci interessano e eliminando solo quelli inutili vediamo almeno tre modi come si procede prima però volevo farvi vedere una cosa io per esempio sono un beta tester di whatsapp nel senso che ho una versione che mi arriva prima di quella ufficiale perché io sono andato in questa pagina qui ovviamente metterò l'indirizzo di questa pagina nel post posizionato nelle informazioni sotto il video e sono diventato un beta tester come vedete basta io posso lasciare il programma quando mi pare però nel momento in cui io apro questa pagina c'è la possibilità di diventare un beta tester e lo sono diventato naturalmente non sempre è possibile per esempio se io uso un altro account vedete in questo momento non è possibile diventare beta tester grazie per l'interessamento però in questo momento il numero dei beta tester è già al massimo quindi bisogna ogni tanto riprovare aprire questa pagina per vedere se effettivamente c'è la possibilità di diventare beta tester è abbastanza comune che dopo qualche tentativo si riesca a diventarlo perché ci sono persone che dopo essere diventate poi lasciano il programma detto questo passiamo allo smartphone e vediamo appunto come liberare il spazio per lo meno lo spazio che non ci interessa su whatsapp il primo metodo per eliminare spazio su whatsapp è quello di farlo attraverso le impostazioni anche se è un metodo molto radicale visto che praticamente si elimina tutto quindi si vanno sulle impostazioni sulle impostazioni sia si scende sia sulle app questo è android e 13 quindi può darsi che la grafica sia diversa rispetto ad altre versioni quindi si va su gestione app e ovviamente su gestione app si scorre in basso fino a trovare whatsapp ecco fatto questo è whatsapp ci si tocca sopra e come qua qui c'è utilizzo memoria si tocca su utilizzo memoria e ci sono tre opzioni c'è l'opzione totale cioè l'utilizzo totale della memoria utilizzo della memoria dell'app questo non può essere toccato perché chiaramente l'app prende spazio ma non è che lo possiamo diminuire mentre ci sono i dati i dati e la cache la pace possiamo eliminare la automaticamente tranquillamente se si va su cancella cache verrà eliminata la cache e non il sistema non ci chiederà conferma di farlo perché è una cosa comune cioè su cancella cache e si elimina tranquillamente adesso è il zero byte si posso cancellare i dati anche qua su cancella dati però questo significa che elimineremo praticamente tutte le nostre chat quindi se si va su cancella dati vedete si visualiserà questa finestra ecco si dice i dati di quest'app inclusi file le impostazioni verranno eliminati direttamente da questo dispositivo questo caso non occorre farlo perché si elimina praticamente tutto certo per una pulizia radicale lo si può fare ma questo caso non lo faccio quindi questa è la prima opzione seconda opzione è invece quella di utilizzare proprio un sistema offerto di proprio da whatsapp per gestire lo spazio quindi si apre whatsapp si va nelle nel menu quindi si va su impostazioni e come vedete c'è l'opzione spazio e dati e nell'opzione spazio e dati c'è il gestisci spazio con la quantità di spazio che attualmente è occupato che è 59,4 megabyte cosa significa questo significa che possiamo eliminare i file inutili dalle chat che vogliamo se si va infatti su gestisci spazio in basso si verrà l'elenco di tutte le chat messe in ordine decrescente a seconda dello spazio che prendono io posso per esempio selezionare una chat eccola qua e vedo tutto quello che c'è in questa chat posso eliminare singolarmente un elemento di questa chat per esempio lo seleziono e poi vado sul cestino e lo elimino elimina l'elemento e lo elimino chiaramente posso eliminare anche tutti gli elementi della chat andando qua su seleziona tutto e poi eliminare tutti gli elementi della chat andando sul cestino e questo lo posso fare per tutte le chat ecco fatto e mi dà anche il numero di megabyte che ho risparmiato infine c'è un terzo metodo infine c'è un terzo metodo si va su un file manager si apre file manager dell'applicazione quello insomma in cui ci sono tutti gli equivalenti di esplora file di windows tanto per intenderci questa è la memoria del dispositivo si tocca sulla memoria del dispositivo e qui ci sono tutte le cartelle del dispositivo bisogna trovare le cartelle di whatsapp in questo caso si va sull'icona della lente si digita whatsapp ecco fatto e queste sono tutte le cartelle di whatsapp quindi io posso selezionare le immagini di whatsapp e eliminare quelle che non mi servono per esempio io posso eliminare questa immagine qua la seleziono vado su elimina in basso e la elimino elimino un elemento chiaramente posso selezionare più elementi contemporaneamente per poi eliminarli questi sono anche gli elementi le immagini inviate sent e io posso naturalmente selezionare un'immagine inviata per esempio questa e andare su cestino e eliminarla quello che ho fatto con le immagini posso fare con l'audio magari seleziono un audio e vado su elimina elimina elemento lo posso fare con le gif ci sono quelle inviate sente quelle ricevute andiamo su quelle inviate per esempio seleziono questa gif qua e quest'altra e vado sul cestino per la eliminazione poi posso eliminare i documenti nella stessa maniera posso eliminare i video anche qua di selezione sono quelli inviati e quelli ricevuti vado su quegli inviati per esempio seleziono uno e poi vado su elimina elimina un elemento quindi posso selezionare singolarmente tutto quello che voglio eliminare poi possiamo eliminare anche il voto del profilo volendo e si può seminare gli stickers adesivi anche qua chiaramente uno ne seleziona quante ne vuole o anche tutti e va su elimina per eliminarli infine come vedete ci sono le note vocali c'è le cartelle delle note vocali c'è questa per esempio con le varie date probabilmente questa è del 2021 2021 19 seleziono seleziono una nota vocale e la elimino e così possiamo eliminare anche i contenuti di whatsapp con questo terzo sistema quindi abbiamo visto tre sistemi il primo sistema è quello attraverso le impostazioni si eliminano dalle impostazioni tutto quello che c'è su whatsapp ma questa è un'operazione più radicale la seconda operazione la si fa con gestisci spazio direttamente da whatsapp eliminando gli elementi singolarmente per ciascuna chat terza opzione è quella che si fa invece con il file manager andando sulle cartelle di whatsapp selezionando i contenuti che non ci interessano più che comunque sono ormai dimenticati o dimenticabili e per poi eliminarli e quindi lasciare soltanto quelli che ancora ci interessano e questo è tutto per eliminare i file inutili da whatsapp e lasciare soltanto quelli necessari per poter risparmiare spazio nel nostro smartphone alla prossima volta